Non c'è pace per la sanità pubblica dell'intero territorio di Brindisi, costantemente in ginocchio a causa delle tante criticità che è costretta ad affrontare. Tale situazione di collasso si riversa ovviamente sulla salute dei pazienti, sempre più destabilizzati da una sanità appunto precaria. Riflettori puntati ancora una volta sulla UOC di Neurologia dell'ospedale Perrino di Brindisi, punto nevralgico in Puglia per la Deep Brain Stimulation e centro provinciale di riferimento per la neuropatia. Da tempo costretta a fare i conti con la persistente carenza di infermieri e operatori sociosanitari, provocando così una crisi senza precedenti, nonostante un piano assunzioni straordinario previsto dalla Regione Puglia. Una problematica che potrebbe portare ad alimentare anche una condizione di stress correlato al lavoro. Infatti, secondo la funzione pubblica della CGL di Brindisi, i carichi di lavoro del personale rimasto sono insostenibili e portano a condizioni di lavoro estenuanti e numericamente insufficienti per garantire i livelli essenziali di assistenza. Come se non bastasse, pare che un'infermiera sarebbe prossima a concludere il suo contratto dopo 27 mesi di servizio e quindi la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente. Per il sindacato, la Stock Unity, e cioè l'unità di emergenza per ictus recentemente anche premiata con un riconoscimento europeo, sta risentendo fortemente di questa crisi e a stretto giro neurologia potrebbe ritrovarsi con un solo infermiere per circa 14 turni. Situazione questa che mette a rischio sia la salute dei pazienti e sia la sicurezza dei lavoratori. La CGL inoltre si aspetta anche gravi ripercussioni sulla catena assistenziale, incluso la possibile riduzione dei posti letto, con gravi conseguenze per i pazienti neurologici dell'intera provincia di Brindisi. Singolare come, nonostante i ripetuti appelli dei sindacati, le richieste riguardanti la carenza di personale e le problematiche in cardiologia ed emodinamica rimangono inascoltate. Per la CGL, la riduzione progressiva e inesorabile degli investimenti nelle risorse umane, strutturali e tecnologiche dell'AS di Brindisi sta causando una disillusione generalizzata tra i lavoratori e i cittadini di Brindisi. Infatti, coloro che ne hanno la possibilità sarebbero già abbandonando il sistema sanitario locale. Dunque, è sempre più inesorabile il declino di un presidio ospedaliero di prima fascia, che entro poco tempo potrebbe essere subordinato al fazzi di Leccia. È quanto mai opportuno dunque avviare immediatamente un intervento volto a incrementare il personale per neurologia, così come tra l'altro predisto dall'assessorato alla sanità con il piano straordinario delle assunzioni del personale sanitario, tecnico e amministrativo.